Con il nuovo contratto della mobilità 2019-2022 si avranno delle importanti novità. La prima novità principale è senz'altro il fatto che vengono aboliti gli ambiti territoriali e si tornerà tutti a essere titolari di scuola, cioè tutti i docenti saranno titolari di scuola. Inoltre viene anche cancellato il codice per quanto riguarda le preferenze, il codice di ambito territoriale. Verranno introdotti nuovamente il codice del comune, il codice dei distretti scolastici e poi il codice della provincia. Ogni docente che farà una domanda unica sia per la mobilità provinciale sia per la mobilità interprovinciale potrà esprimere fino a un massimo di 15 preferenze, senza più avere il vincolo delle 5 scuole ma potrà anche un docente esprimere 15 scuole o della stessa provincia o anche di province differenti oppure potrebbe anche esprimere 15 preferenze di 15 province differenti oppure fare 15 preferenze mettendo sia le preferenze puntuali di scuola, sia le preferenze di distretti scolastici e sia eventualmente anche se intende fare una mobilità interprovinciale di province. Dunque un'altra novità che interviene con questo contratto è anche il fatto che si ritorna alle tre fasi di mobilità. Una prima fase sarà la fase comunale, cioè i docenti che si potranno spostare all'interno dello stesso comune. La seconda fase sarà provinciale ma tra comuni diversi della stessa provincia. E la terza e ultima fase sarà la fase interprovinciale, cioè per chi chiede di andare fuori provincia. Queste tre fasi verranno gestite a richiesta nella stessa domanda, cioè il docente può in un'unica domanda partecipare sia alla mobilità eventualmente comunale, sia quella provinciale, sia quella interprovinciale. Queste sono le principali novità del contratto di mobilità 2019-2022, che ricordiamo è un contratto che è valevole per tre anni, cioè gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.